Dalla centrale Luceverde in collaborazione con la regione Lazio e Laci, buon pomeriggio da Giovanni Pascarelli. Subito gli ultimi aggiornamenti partendo dalla città di Roma dove il traffico è intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale. Trafficato anche il raccordo onolare con code lungo la careggiata esterna tra l'uscita per l'aeroporto di Fiumicino e la deramazione Roma Sud. Successivamente tra la via Pernestina e lo svincolo della 24 per Teramo. Analoga situazione sulla careggiata interna con incolonamenti tra la via Triunfale e lo svincolo per la 24 Roma Teramo. Altre file sull'autostrada a Roma Fiumicino dalla raccordo onolare a via della Maiana in direzione della città capitolina. Nella città di Frosinone possibili rallentamenti in piazzale Madonna della Neve per un incidente avvenuto di fronte alla farmacia. Infine nella città di Latina il traffico rallentato a Borgo Piave in prossimità della rotatoria. Concludiamo con il trasporto ferroviario per informare che nella giornata odierna sono possibili alcune soppressioni di corse sulla linea Roma-Nedo. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito regionelazio.luceverde.it. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione.